Ciao a tutti. Oggi è il 7 luglio e siamo entusiasti di condividere con voi le previsioni astrologiche del giorno. Preparatevi a scoprire cosa hanno in serbo le stelle per voi. Segno ariete. Secondo l'oroscopo di Paolo Fox, preparatevi per una giornata intensa e piena di sfide, che potrebbero portare a qualche difficoltà. Tuttavia, luglio si prospetta essere un mese molto promettente e gratificante. È importante lasciare da parte le paure, le ansie e il pessimismo. Con determinazione, riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi, nonostante eventuali ostacoli o ritardi. Considerate la domenica come una giornata positiva, anche se potrebbero esserci dei piccoli imprevisti che potrebbero influenzare il vostro umore. L'oroscopo indica un ottimo inizio di periodo, che poi si stabilizzerà mantenendo comunque una nota positiva. Una luna favorevole sarà di grande aiuto nel superare eventuali ostacoli nelle relazioni di coppia. Se vi sentite un po' giù di morale, reagite mantenendo comunque la serenità. Per i single, non fermatevi alle apparenze in questi giorni, cercate di capire la vera natura delle cose. Non accontentatevi dei primi risultati e ricordate che c'è sempre spazio per migliorare, aspettate di più dalla vita. Segno Toro. Una luna dissonante suggerisce di evitare discussioni profonde e argomenti delicati in questi giorni. Sarà meglio aspettare la prossima settimana, quando le opposizioni planetarie si placheranno. Purtroppo, luglio potrebbe portare incertezze nelle relazioni. Questo non significa che non possiate decidere improvvisamente di concludere un rapporto, sia lavorativo che amoroso. Si prospetta una giornata di routine, ma con un po' di determinazione riuscirete a concludere molte cose. Nei sentimenti, è consigliabile mantenere la calma, potrebbero esserci piccole incomprensioni con la persona amata. Non lasciate che questi piccoli disguidi turbino la vostra relazione. Se notate che il vostro partner tende a deviare dalla verità, potrebbe essere il momento di porvi qualche domanda. Per i single, qualche malinteso con una persona di interesse non deve farvi preoccupare, potrebbe essere solo un contrattempo passeggero. Se la situazione persiste, guardatevi intorno per nuove opportunità. Sul fronte lavorativo, non mancheranno occasioni per raggiungere i vostri obiettivi. Segno gemelli. Questo periodo è particolarmente favorevole per i contatti d'affari. La prossima settimana avrete l'opportunità di comprendere meglio come far progredire la vostra attività. Lunedì sarà una giornata molto positiva e venerdì potreste ricevere buone notizie. Tuttavia, non mancheranno piccole controversie e fastidiosi ritardi, come indicato dall'oroscopo di Paolo Fox. La domenica si prospetta molto piacevole e positiva grazie agli astri favorevoli. In amore, potreste risvegliare curiosità o desideri repressi, con un forte bisogno di fare qualcosa di diverso. Chi ha avuto litigi con partner, familiari o amici, può riportare la serenità aggiungendo un pizzico di umorismo. I single godranno di tranquillità mentale e benessere fisico. Gli aspetti planetari vi invitano a manifestare chiaramente i vostri migliori sentimenti verso chi vi fa battere il cuore. Nel lavoro, coraggio e buona volontà porteranno nuove opportunità e un miglioramento economico. Segno Cancro Questa domenica vedrà la risoluzione di alcune questioni, permettendovi di ritrovare la serenità tanto desiderata. In amore, se percepite qualche tensione nella coppia, è meglio affrontarla subito prima che diventi un problema. Per i single, l'amore tornerà a brillare, più intenso che mai, anche per coloro che hanno recentemente chiuso una storia in modo non positivo. Cercate un equilibrio e una soluzione di compromesso che possa conciliare aspirazioni e realtà. Sul fronte lavorativo, mostrate ottimismo di fronte alle difficoltà. Anche se non sarà facile, sappiate che è in arrivo un periodo favorevole. È un buon momento per esprimere i vostri sentimenti a qualcuno o per avvicinare una persona importante. La giornata sarà anche propizia per parlare con i familiari e risolvere questioni complicate rimaste in sospeso. Questo mese di luglio sarà favorevole per tutti i nati del segno che hanno seminato bene in passato. Si profilano buone notizie lavorative all'orizzonte. Segno leone. Questa domenica sarà illuminata da una vivace luna nel vostro segno, portando con sé una forte ondata di positività. Approfittate di questo periodo favorevole per rigenerare i sentimenti e dare un senso profondo alla giornata. In amore, sfruttate ogni occasione per rafforzare la relazione di coppia o per prendere decisioni importanti se siete single. Chi saprà esprimere la propria passione e far sentire il partner speciale troverà il cammino privo di ostacoli. Sul lavoro, la situazione è in miglioramento, è il momento ideale per dimostrare le vostre abilità pratiche. Il vostro desiderio di socializzare, incontrare persone nuove e vivere l'amore crescerà notevolmente. Le stelle promettono di ricompensarvi per gli sforzi compiuti nelle prossime settimane con soddisfazioni mai provate prima. Tuttavia, la quadratura di Marte potrebbe rendervi difficile dimenticare vecchie ingiustizie o rancori. Irradiate fiducia e carisma mentre vi immergete nelle dinamiche affettive. Esprimete il vostro amore con gesti generosi e attenzione autentica. Se siete soli, il vostro entusiasmo potrebbe attrarre qualcuno di speciale nella vostra vita. Segno Vergine La giornata potrebbe presentare alcune sfide, sia in amore che nel lavoro. È importante mantenere la calma in situazioni potenzialmente tese. In amore, il partner potrebbe sentirsi sotto pressione, cercate di evitare atteggiamenti di diffidenza o gelosia senza motivo. Se vi sentite agitati, trovate un modo per rilassarvi. Single Non tutte le giornate possono essere perfette, potrebbero sorgere contrasti o discussioni. Evitate le persone che sanno come farvi perdere la pazienza, va a volte, il silenzio è la migliore strategia. Sul lavoro, potrebbero emergere difficoltà, se non siete soddisfatti, prendetevi un momento per riflettere e, se necessario, fate un passo indietro. Secondo l'oroscopo di Paolo Fox, domani sarà una giornata migliore rispetto ai giorni precedenti, ma vi troverete comunque molto impegnati. Vi aspettano numerosi compiti, responsabilità, nuovi progetti e contatti commerciali. Saranno giorni di grande forza e determinazione. Tra martedì e giovedì prossimi potrebbe accadere qualcosa di molto positivo. È un buon momento per focalizzarvi sulla cura e sull'attenzione ai dettagli nella vostra relazione. Esprimete il vostro affetto attraverso gesti pratici e servizievoli che dimostrano il vostro impegno. La vostra dedizione e precisione saranno apprezzate dal vostro compagno. Segno bilancia La domenica vi vede ancora al top della positività, grazie alla presenza di una radiosa luna che vi accompagnerà fino al prossimo lunedì. È un periodo favorevole, soprattutto se avete un obiettivo da raggiungere. Pianificate attentamente le vostre azioni per evitare intoppi. In amore, l'oroscopo prevede una riscoperta della trazione fisica per chi è in coppia, basta un piccolo gesto per far scoccare la scintilla. Anche i single con relazioni complicate troveranno momenti propizi. Nel lavoro, potreste trovarvi di fronte a una scelta quasi inevitabile, rimanete vigili. Alcuni di voi potrebbero ancora sentire gli strascichi della rabbia accumulata a giugno. Quando vi trovate di fronte a chi vi dice con fermezza cosa fare, potreste sentirvi ribelli. Con la luna favorevole, è consigliabile seguire il flusso e godersi la giornata dedicandosi ad attività piacevoli e divertenti. Una relazione tra toro e pesci sembra promettente. La ricerca dell'equilibrio e dell'armonia può influenzare positivamente il campo amoroso. Siate diplomatici nelle vostre interazioni e cercate il compromesso con il vostro compagno. La vostra natura affabile e amorevole crea un ambiente favorevole per la connessione e la comprensione. Segno Scorpione. Questo fine settimana si presenta ottimale e senza ostacoli. Nonostante le influenze astrali favorevoli, potrebbero sorgere dispute legate a questioni economiche, i soldi sembrano non bastare mai. Il pomeriggio sarà il momento cruciale per molti di voi, da vivere con equilibrio. In amore, la giornata scorrerà senza problemi. Arriverete alla sera forse stanchi, ma soddisfatti di quanto realizzato. La luna suggerisce a molti di voi di dialogare di più con il partner single, riflettete attentamente prima di prendere decisioni per evitare rimpianti futuri. Sul lavoro, potrebbe essere il momento giusto per prendere iniziative. State attraversando un periodo che promette grandi soddisfazioni e idee brillanti. Tuttavia, è importante mantenere separate la sfera lavorativa e quella amorosa. In una relazione, se avete questioni irrisolte sul lavoro, potreste rischiare di compromettere il rapporto. Evitate di portare le preoccupazioni lavorative nella vita di coppia, richiede particolare attenzione. Siete in un periodo di profonda connessione emotiva. Sfruttate questo momento per approfondire i legami esistenti con sincerità e intimità. Le conversazioni a cuore aperto porteranno chiarezza e consolidamento nei vostri rapporti amorosi. Segno sagittario. Domenica potrebbe iniziare in modo ordinario, ma con qualche sorpresa in serbo. In amore, troverete nel partner un rifugio sicuro dai problemi quotidiani, e un gesto d'amore speciale potrebbe lasciarvi senza parole. Per i single, mantenete un atteggiamento positivo e la vostra passione, potrebbero arrivare sorprese piacevoli se siete aperti a nuove possibilità. Sul lavoro, alcuni di voi dovranno esplorare nuove aree operative, mentre altri scopriranno nuovi collaboratori. Luglio è il mese che vi invita all'amore e a fare nuove conoscenze. Oggi è un giorno ideale per esprimere i vostri sentimenti a qualcuno di speciale. Vivete la vostra passione senza paura e lasciatevi guidare dalle emozioni. Sul fronte lavorativo, aspettatevi interessanti novità. Se avete bisogno di incontri importanti, lunedì o martedì prossimo potrebbero essere i giorni giusti. Potreste sentire il desiderio di esplorare oltre i confini dell'amore convenzionale. Scoprite nuove idee ed esperienze con il vostro compagno, o se siete soli, fatevi avanti con la vostra natura giocosa e ottimista. In queste ore, il mondo dell'amore è ricco di possibilità per voi. Segno Capricorno Domenica potrebbe essere sottotono, ma ricordate che un atteggiamento positivo può trasformare anche le situazioni più difficili. Potrebbero sorgere tensioni in famiglia o nella coppia, mantenete la calma e usate parole gentili. Lo stress potrebbe causare mal di testa, quindi cercate di gestire bene il vostro tempo. In amore, alcune relazioni potrebbero attraversare un periodo di crisi, evitate di suscitare gelosia nel partner. Anche senza grandi problemi, potreste sentirvi nervosi e comportarvi in modo irruento. Sul lavoro, con un po' di perseveranza, riuscirete a mettere tutto in ordine. Secondo l'oroscopo di Paolo Fox, oggi gli astri vi incoraggeranno a lasciar andare le cose, soprattutto se vi sentite feriti dal comportamento altrui. Questo è il momento di essere più pazienti e perdonare. Non tutto è bianco o nero. I progetti di lavoro potrebbero subire dei ridimensionamenti, ma con una nuova prospettiva potrebbero emergere opportunità inaspettate. Concentratevi sulla stabilità e sulla costruzione di fondamenta solide con il compagno. L'impegno e la determinazione porteranno a risultati positivi nel lungo termine. Segno acquario. Giornata positiva, anche se ordinaria. In amore, rimandate i giochi di coppia a giorni futuri, poiché avrete altre preoccupazioni. Tuttavia, se riuscite a lasciarvi andare alle dolcezze del partner, otterrete grandi ricompense. Chi vive una relazione parallela potrebbe trovare qualcosa di particolarmente piacevole. Per i single, il desiderio di avere qualcuno accanto si farà sentire, cercate di innamorarvi veramente invece di puntare su avventure effimere. Nel lavoro, per non rischiare alcune certezze, evitate di essere insistenti. È tempo di distinguere tra chi merita la vostra fiducia e chi no. Non tutte le persone sono leali e dovreste imparare a essere meno condiscendenti. Prestate maggiore attenzione alla vostra situazione finanziaria e riducete le spese superflue, poiché nei prossimi mesi potrebbero esserci cambiamenti significativi. Potreste sentire la necessità di esplorare mentalmente ed emotivamente nel vostro mondo amoroso. Lasciatevi guidare dalla vostra curiosità e innovazione mentre scoprite nuove frontiere con il vostro compagno o mentre incontrate nuove persone. Mantenete un approccio aperto e non convenzionale. Segno pesci L'oroscopo di domenica 7 luglio promette toni molto positivi. Nonostante alcune sfumature poco promettenti, tutto sarà facilmente gestibile. In amore, dopo un inizio giornata impegnativo, la situazione si ammorbidirà, lasciando spazio alla tranquillità. In coppia avrete energia sufficiente per sostenere positivamente la relazione. Concedetevi un sano relax, la luna sarà completamente dalla vostra parte. I single potrebbero finalmente incontrare la persona giusta. Sul lavoro, la situazione è in netta risalita. Già dall'inizio di giugno avevate la sensazione che le cose non stessero andando come previsto. Il problema non siete voi, ma alcune persone intorno a voi che potrebbero essere ostili. Se vi sentite agitati o irrequieti, prendetevi una pausa. Spegnete il telefono e dedicate del tempo alla meditazione o alla riflessione interiore per ritrovare la calma. Seguite il flusso delle emozioni. Siate gentili con voi stessi e con gli altri mentre navighiate attraverso le sfumature dell'amore. L'empatia e la sensibilità che manifestate potrebbero risultare incredibilmente attraenti per il vostro compagno o per qualcuno che sta per entrare nella vostra vita.